buongiorno vi faccio vedere il secondo questo è un filetto di orata questo è un filetto di spigola e questa è la panatura che ci metterò sopra ho messo il pane grattugiato uno spicchio d'aglio a pezzettini del prezzemolo e mezzo pomodorino o le mani pulite me ne sono lavate però questo questo lavoro si deve fare con le mani allora appoggio vedete la panatura sul su ogni che lo scusa un attimo su ogni filetto lo coprirò interamente ecco qua pazienza vedete che formerà e poi in forno una bella crosticina ha aggiunto ovviamente anche un po di sale di pepe vedete sopra metterò ho comprato della granella di pistacchi mi raccomando granella di che non sia salata allora ecco qua vedete ok un giro d'olio ancora sopra in forno un quarto d'ora buon appetito